Welbeck, pallone per Van de Putt, si può distendere il Catanzaro, Pontisso, pallone tra le linee, Brignola, la posizione regolare, Brignola, Brignola, il gol della Serie B, Enrico Brignola al 93esimo, fa esplodere l'Arecchi, 2-0 Catanzaro, adesso una festa, Polizia regolta vero, si toglie la maglia, la mostra al settore distinti, al 93esimo il Catanzaro mette la parola fine su questo campionato e guardate il popolo giallorosso e si lascia andare anche Vincenzo Vivarini dopo un campionato pacato, composto, quello dell'allenatore del Catanzaro che ha sempre predicato calma dall'inizio alla fine, ha detto viviamo partita dopo partita, un campionato complicato e ha avuto ragione Vincenzo Vivarini perché questo è stato un campionato complicato che il Catanzaro però ha dominato dalla prima giornata fino alla 33esima e adesso ascoltiamo l'Arecchi arrivano le maglie celebrative in panchina, scade adesso il 94esimo ma c'è da riprendere il gioco non è ancora finita ma il popolo giallorosso è pronto ad esplodere di gioia a Crotone è finita 3-2 ma non conta più, è finita dopo 17 anni il Catanzaro torna in Serie B lo fa dalla porta principale evitando i playoff che per questa società sono sempre stati una maledizione lo fa a suon di record dopo aver dominato un campionato dall'inizio alla fine vincendolo con 5 giornate d'anticipo